Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Lory304 e oggi finalmente siamo tornati su Ghost of Tsushima ed è l'ultimo episodio perchè vi voglio far vedere le mie, le armature del gioco Ora, vediamo Adesso ve le faccio vedere Completo Armatura dei clan samurai Questa qua è l'armatura di Lady Masako, di uno dei figli di Lady Masako e questo qua assomiglia, sapete a cosa? Assomiglia all'abito di Jin quando era più piccolo Questo è carino, dai, ci sta E poi c'è questo che non mi piace per niente L'armatura infranta, vabbè, l'armatura del gioco L'armatura dell'eroe di Tsushima è possibile ottenerlo quando, se avete comprato la Directors Cut Io ho comprato la Directors Cut Perchè, appunto, ho detto, va bene, mi prendo l'edizione base, mi prendo l'edizione dell'Axe, che appunto ha anche quest'armatura Infatti il cavallo che ho usato all'inizio del gioco, Nobu, quello che purtroppo è morto Non è, faceva parte dell'edizione dell'Axe Infatti se voi prendete l'edizione normale non ce l'avete qua il cavallo E poi c'è l'armatura di Tadaiori L'armatura di Tadaiori, questo qua appartiene ad una missione primaria, secondaria del gioco E poi c'è questa qua, la veste del cercatore Ma, ecco, la veste del cercatore è il... Il... come si chiama? È la skin dell'armatura di Tadaiori Della protagonista di Aloy, non ho mai giocato a Horizon Zero Dawn Però è questa qua, è veramente figa, devo essere sincero Uniforme Ronin Vabbè Armatura di Goswaku Non ho tinte qua, ma... si può cambiare l'aspetto dell'armatura togliendo... La pa... ah, togliendo... Ah, vabbè, ok E poi c'è l'armatura del clan Sakai Vabbè, forza ancestrale Sangue del clan Posso anche cambiare il tatuaggio? No Poi l'oscurità di Kazumasa La tinta standard I Jin di Yarikawa E lo spettro di Sparta Ragazzi, sì, c'è anche lo spettro di Sparta Però, è veramente figa lo skin dello spettro di Sparta Infatti l'ho anche utilizzato nella battaglia finale Contro l'aquila Ed è veramente una bomba, devo essere sincero Guardate che roba Perché il gioco si chiama Ghost of Tsushima E aggiungiamoci anche lo spettro di Sparta Che comunque è reperibile qua Come l'armatura, come la skin della veste ricercatore di Aloy Ok, l'armatura Kensei L'armatura Kensei è appunto questa roba qua Che si ottiene in una missione a Tsushima E poi ci sono i paramenti di Yarham Yarham è un'altra skin che appartiene a Bloodborne Non l'ho mai giocato, ma so che appartiene a Bloodborne E si ottiene sempre qua Aiki Island Armatura dello spettro, armatura dello spettro, armatura dello spettro Questo qua è una skin che non mi ricordo dove l'ho tenuto Penitenza del Boia è la skin che troviamo normalmente L'armatura del Colosso L'armatura del Colosso fa parte del gioco Shadow of the Colossus E basta E si trova Aiki Island E poi c'è la punizione legittima La punizione legittima La skin che ottenete quando fate il finale malvagio Il finale, non malvagio Il finale in cui uccidete Lord Shimura E... ok Poi c'è l'armatura del Comandante Mongolo Che... Regà, non so perché l'ho ottenuta Ma volevo tenerla La veste del Viandante Che non l'ho mai utilizzata da quando l'ho ottenuta I Fundoshi È bellissima questa qua E poi c'è l'armatura Sarugami Che è l'ultima armatura che ho ottenuto Perché penso di aver ottenuto tutte le armature E... Questa è l'armatura di... Rikuman non era che annulla la parata E utilizza solo la parata perfetta Ma ora Andiamo allo spazio degli elmi La vabbè L'elmo dei clan samurai Bello questo L'elmo dei clan samurai rifinito Che è un po' più cornuto Cappello del maestro spadaccino L'elmo del clan Sakai Che non ho... Che purtroppo qua non ha ricevuto skin Elmo dei clan Sakai Migliorato Sembra un visore notturno E qua invece sembra un cervo Non so vabbè L'elmo dei clan Sakai rifinito Questo è un che babbaro E la fascia dello spettro Oh vabbè bella Ci sta ci sta anche Cappello di paglia dell'arciere Me Insomma Cappello di paglia consunto Elmo dell'eloe Deloe Dell'eroe di Tsushima Cappello del traditore Ryuzo Fascia dell'incertezza E queste qua sono tutte le fasce Che ho ottenuto a Tsushima Facendo anche Yaiku E acquistandole dai vari mercanti Oddio Sì questa qua invece È la forma finale Dell'elmo di Gosaku Questo è il trofeo di Kojiro Delle 6 spade di Kojiro Cappello Kensei È finito Anche questo Fascia della rinascita Questa qua l'ho ottenuta Non mi ricordo dove Fascia della paura È bellissima questa Fascia della disgrazia Si ottiene qua Fascia della morte Fascia della perseveranza L'ho acquistata Questa no Questa no Mi ricordo che ho fatto Qualche Qualche misure secondarie Per ottenere E qualche Aiko Per ottenere le fasce E Questo qua vabbè Fa L'elmo mongolo è Ma No scherzo Vabbè Elmo mongolo Si ottiene facendo la missione Delle Come si chiama Dei mongoli Per ottenere la missione È al tempo Gosaku Quindi nell'ultimo Nell'ultimo stage Beh Questa è carina No Queste qua le ho acquistate Sì Questo non mi fa impazzire Il Tengai è bellissimo È un È un tamburo Tipo Io quando l'ho ottenuto Ero tipo Ma che cacchio è Ave Carino questo Questa qua Invece sono tutte Le fasce Che ho ottenuto Durante il gioco Questo è il Cappello di Paya Che ho ottenuto Il Nella Nella Santuario Oscuro Qua A Iki E poi c'è l'elmo Della guerra Forgiato nel fuoco E nel sangue Vi ricorda qualcuno? Kratos L'elmo sarugami Facendo la missione L'elmo sarugami Migliorato Rifinito Fascia di conforto Grazia concentrica E questa qua È l'ultimo È l'ultimo Cappello che ho ottenuto Facendo una missione Secondaria Qua A Iki Vediamo invece qua Ok Maschera dello spettro Beh Vabbè Guerriero infuriato Maschera Sakai Mezzavolto Maschera Sakai Maschera Adachi Non mi ricordo Quando l'ho ottenuta Guardiano Arcigno L'ho ottenuta Facendo una missione Non mi ricordo Pure in un santuario In un santuario del dono Non mi ricordo quando Il Vendicatore Sì L'ho ottenuta L'ho ottenuta In un In un tempio Guerri macolata Come dono Come dono Anche questo Questa Dovrei aver acquistata Ma non mi ricordo E questo Non me lo ricordo Però è bellissimo Con i baffetti Ma è una scimmia Sì È una scimmia Mi sa che l'ho ottenuta Da qualche parte Gosaku Eccolo qua Questa è la maschera Di Tomoe Che appunto Ho fatto Le missioni Di Ishikawa Prima di andare In montagna E niente E ho completato Tutte le missioni Di Ishikawa È veramente È una Belle toste Eroi di Tsushima Questo qua L'ottenete Facendo il Facendo La missione Del mongolo Maschera Dell'invasore L'ottene Vabbè Nevi di Kamiagata Penso che L'ottenete Da qualche parte Bandito brutale Questa è bellissima Non ho Peccato Vabbè Sonni tormentosi Maschera Del clan samurai Sangue Di Kijin Spartano Eccolo qua Fauci Di Saurugami Maschera Del colosso Questa è Inquietante Appartiene A Shadow Of The Colossius Maschera Dell'aquila Non mi fa Impazzire E Terrore Trivale Che l'ho Usato Per poco Tempo Va bene Questo qua Erano tutte le armature Che volevo farvi Vedere In Ghost of Tsushima E io direi che Il Gameplay È finito qua Grazie per aver Grazie per aver Seguito Con me Queste Le avventure Di Le imprese Di Jin Sakai Nel liberare L'isola di Tsushima E l'isola di Ikida La minaccia Abbiamo liberato Tutto Cotton Can L'abbiamo ucciso L'aquila Anche Io penso Anche di portarlo Il live Sul canale Viola Appena Appena avrò L'occasione Di Di fare L'autentificazione Degli account E appunto Nel canale Viola Porterò Sia Ghost of Tsushima Sia le secondarie Di tutto e di più Ecco Perché su Youtube Ho capito Che non posso portarlo Le live Intendo Non posso portarle Su Di Ghost of Tsushima E comunque Se facciamo Il new gameplay Se facciamo Il I gameplay In live Io faccio Su nuova partita Perché su Ikki E anche qua C'è la possibilità Di fare una cosa Bellissima Va bene ragazzi Per questo video È tutto Grazie per aver seguito Il gameplay Di Ghost of Tsushima Io Nel frattempo Sto caricando Anche le parti Finali di Ikki Island E niente ragazzi Ci vediamo Al prossimo gameplay Ciao a tutti